Musica Ancora una volta la Regione Calabria ha inteso investire sulla rete dell'accoglienza rurale e sullo sviluppo delle attività didattiche e sociali in tale ambito, incendivando nuove forme di impresa che uniscono ai servizi, ai visitatori, ai turisti, la diversificazione e la qualità delle coltivazioni e degli allevamenti. E' dalla Regione Calabria circa 6 milioni di euro per agriturismo e fattorie didattiche e sociali. Un altro investimento importante con la programmazione PSR 1422. Sono state destinate risorse ingenti per il rinnovo e l'implementazione degli agriturismi e per le fattorie didattiche, che possono essere strumenti importanti per migliorare non solo le produzioni, ma anche per integrare i redditi dei nostri agricoltori. In un momento in cui probabilmente è necessario, per l'attenzione e la curiosità che la nostra Calabria sta dedicando, di avere l'ambizione e la qualità anche in questi settori. Nello specifico 100 sono state le domande presentate, 86 quelle ritenute meritevoli di accoglimento da parte della Commissione di Valutazione per un valore complessivo pari a circa 5 milioni e 830 mila euro. I contributi concessi hanno un abbondare massimo di 100 mila euro per ogni singola azienda beneficiaria.